Vogliamo chiudere con il presidente della Federazione Italiana Pallavollo Giuseppe Manfredi che ha tanto esultato in questi mesi. Questo è il momento del dispiacere per un sogno, una magia, una magia d'oro che svanisce. Intanto le ragazze hanno fatto un bel percorso. Vorrei ricordare che abbiamo vinto comunque la UNL, siamo arrivati qui, abbiamo trovato una grandissima squadra. Un po' di fortuna magari ci voleva anche di più, però io sono contento del percorso che hanno fatto le nostre ragazze. Una squadra che ci ha messo il cuore fino all'ultimo punto, veramente. Ci hanno provato davvero tutti fino alla fine. Oggi purtroppo non è la giornata, non è stata una delle migliori giornate. Però dico abbiamo da lavorare ancora, faremo ancora meglio. E abbiamo una partita da giocare sabato? Intanto la giocheremo, la giocheremo bene. Poi, che devo dire, quest'anno è stato un anno fantastico per la Pallavolo. Chissà, ancora non è finita, vediamo. Vedremo, vediamo sabato con questa medaglia. Sarà di bronzo, vogliamo andarcela a prendere. Saluto con lei, i telespettatori di Rai3 e tutti gli amanti della Pallavolo che ci stanno seguendo così numerosi. Grazie Alessandro Gargiullo al coordinamento. Gianpaolo Salmoni in regia. Grazie a tutti voi.